Spera l'ultima facciamo io contro di te Ragazzi voi non avete idea che questo Essere umano qua Spamma Non è vero Io sono una persona a modino Oh qua non l'abbiamo mai fatto Vabbè ma più o meno le mappe sono tutte uguali Cambia perché Ah cominciamo con una bella spintarella Perché detta così Quella è bottarella ignorante Anche spintarella Ignorante sono io Ti devo sverginare su ste cose Guardalo guardalo che mi aspetta Guardalo Su dicio Ma adesso che hai mossa la tattica Ho fatto che ti ho lanciato l'ascia Ho lasciato l'ascia Te l'hai vista questa mossa tattica Ero distratto Eh sì certo Mi è rimasto male Ma non dico anche una parola Però c'ho il martello di Thor Il Thor che c'è il martello di Thor Ma tu non hai capito che mossa che è questa Non pensavo che mi riuscisse alla prima Sì è Sì è Vedi Vedi che personaggio sgravo che è il suo E non hai visto ancora il cane lupo Non gli abbiamo fatto vedere il cane lupo ancora Il cane lupo? Quella della tigra Della l'arciera Guardalo 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 Vieni Vieni Te la sei giocata male Mi potevi Battere Eh? Cosa? Lo devi battere pure prima Bastardo Bastardo No Cazzo L'hai capita No Bravo Vabbè No è che volevo dare un brivido agli spettatori Ti stai facendo colpire troppo Eh? Io te lo dio Eh perché è una mia È una mia tattica Come l'Inter contro il Milan Non so se l'hai visto Prima perdevo 2 a 0 Poi ho vinto 3 a 2 No in realtà No 4 a 2 anzi Ma tanto è scarso lo stesso Inder No Mamma mia che culo Eh Eh Oh Match point Match point Ti fa questa vinge Venga Venga Ha paura Le ricordo che io sono tanto amico Da fatti Ma Un paio di schiaffi recuperano T'ho preso Sì sì me l'ho fatto apposta Sì sì Per regalare il brivido agli spettatori Il brivido della sciabolata morbida Sì 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 no no vabbè rivincita Allora facciamo il meglio di 3 Sì sì Una l'hai vinta a culo Sì Quindi l'hai vinta per metà Quindi hai vinto 0,5 punti Ma è un punto per l'approssimazione Sì L'approssimazione di 500 decimali 50 5 0,5 Go Sì è Neanche arrivata Io senza armi M'ho compatto Se ti batto vuol dire Che sono troppo forte Guarda che Guarda che sudicio È stato tempismo questo Anche questo Che botta Diritto è in bacia Ed è arrivato quel Anche questo Ti è arrivato dritto Sì Questo è sul mento Perché è arrivata prima la tavola Aia Ninja Sì ma ora C'hai poca vita Anzi Io ho una bazzucata Che ti arriva in bacia E muore Oh That's it That's it This is it And now I pass That's it That's it That's it Guarda guarda Si mette Oi Te l'ha fatta prendere l'arma Stai ricarando pure tu Guardalo Come schermo e spamma Come Come sono a spamma Come uno Te l'ho tirata Si Sì Sì vabbè Senti E ora Questo è stato Spammatissimo Oh Cominciamo a fare Le dita È stata troppo bella Quella replay L'ha visto Proprio replay Nel senso Lavar Sì vabbè Senti Che che fai Avanti e indietro C'è Non era facile Da fare Oh Ma sì Vabbò Cattivo Dello stesso modo Di prima Guarda 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 T'ho preso Sto giro E Aia In faccia In faccia Oh È solo mento Questa Nerviso Su Dicione Su Dicione Uh Eccolo che Rimonta Sembra Apocalisse Puoi scegliere Quello che vuoi Sempre Quello Perché Tra me Te È un Apocalisse No Guardalo Guardalo Che Si incura L'arma Per primo Vedi L'auto Positivo Ho preso L'arma Perché Perché In questo Modo Ho fatto In modo Che tu Non sei Falso Prendendomi L'honere Di essere Falso Sì Vabbè Però Guarda Che La Tattica Del Codardo Tic E poi Scappa Tic Quando il gioco Si fia duro Non ti conosco Sì Vabbè E poi salta L'ultimo Quando Sì Vabbè Ciao Proprio È la tattica Del La tattica Della merda Alì Tic E poi scappa Tic Vediamo Quanto Tempo Deva Passare Ecco Grazie Gioco Troppo Gentile Ci manca Nesse Altri Ma Guarda Io Dico Di salta Non Salta Non Ti preoccupi Oh Che Mi 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 Non Lo So Oh Dopo 16.000 Ore No 16.000 Sì Certo È Manto Oh Armare Però Non lo Prende Subito Il colpo Caricato Quando Raccoglie Un oggetto Questa cosa Fa Incazzare Non lo Capito In realtà Non Raccoglie Un oggetto L'ho Tacco Caricato Non Lo Fa Subito Ah Ho Capito Non Lo Prende Subito Ah Infatti Non Lo Prende Il Comando Ce l'abbiamo Fatta Eh Vabbò Ognuno Ha Le sue Tembi Se tu Mi Mi Capri Gli Attacchi Non Non Posso Fare Niente Sì Ma Te Che Vinci Così A Culo Perché Tu Mi Capri Gli Attacchi Io ti lancio Le bombe E tu mi colpisci Quando ti lancio La bomba E la bomba Che casca Di per terra Non è che Ti va addosso Seguendo la fisica Normale Guardalo 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 Che Spammone Di merda Una spada Contro Un arco Contro Una spada O meglio Quando una spada Rincontra un arco E un arco Incontra una spada Devi fare la capriola E questo Non lo puoi girare Perché questo Fa prima La capriola E poi attacca Capriola Caricato Poi questo Non si gira Quando la lanci Da me si gira Voi Che fai Uh Mamma mia Si è Ti ho detto Di fare un altro Attacco E non me lo fa E vabbè Perché Stavo spammando Un pochino Troppo Sto Che fai Ma che sto giocando A palla A volo Comunque La cosa spinata Guarda come cambia La cosa spinata La voglio La voglio prendere Caccia di davanti Io non la voglio Ti voglio solo colpire Non la voglio la bomba Vedi Io voglio prendere la bomba Io te la lancio addosso Non ci avversi Non ci avversi Non ci avversi Te la lancio addosso Io la bomba Mi lancio io la bomba Non lo becco Perché lui deve Non lo so Con una mossa Perché Io ti lascio Ti spiego la motivazione Ma la bomba Deve andare dritta Lo stesso Anche se te mi colpisci Non ti spiego la motivazione Ho ragione io Però io ho fatto più hype Lo decideranno i nostri amici No no Lo diciamo Qui e ora Forza